è sempre per noi una nuova partenza oggi una nuova partenza una fase sperimentale perché ancora ci dobbiamo abituare al nuovo meccanismo considerate che vi dico pure 70 80 euro di guadagno giornaliero ogni operatore per ricominciare per la prima volta è riuscita a venire anche mia moglie perché giustamente la prete quindi era chiusa da due mesi a casa ho potuto notare che i banchi qua del mercato sono transennate comunque c'è a livello visivo e quindi anche pratico il discorso del rispetto della distanza è molto diverso pazienza ci vuole pazienza è stato dura durissima dopo due mesi di non lavoro è stato molto dura i clienti penso che stiano rispondendo bene per quello che vogliono venire perché i nostri testi sono molto accessibili la qualità è molto buona sul divano a guardare a barbara d'orso ci voleva ci voleva veramente sono due mesi che sono a casa per stata non avrebbero uscita tutto quello che abbiamo prodotto quest'inverno per la stagione adesso l'abbiamo perso tutto già anche se così poco ma per me per la gente semplice è fantastico anche per loro che possono lavorare un po dopo tutti i sacrifici che stanno facendo ve lo posso dire in casa anzalessi? quando ci vuoi ci vuoi questo formaggio soprattutto del signore mi manca tantissimo noi amiamo il formaggio oggi è il primo giorno che stiamo lavorando speriamo che la gente viene è un'emozione immensa ritrovare i macellai di fiducia ritrovare tutti tutti gli amici del mercatino e Grazie a tutti.